L'amico Mauro Febbo dovrebbe avere la bontà di sentire i colleghi della maggioranza prima di rilasciare dichiarazioni alla stampa e di ascoltare le ragioni di chi ha torto a ragione e chiede di essere sentito. Quando poi la richiesta arriva addirittura dal Consiglio Comunale di Vasto, mi sembra d'obbligo che un assessore mostri la massima disponibilità del resto su questo progetto, ereditato dalla passata amministrazione di Sinistra, della quale facevano parte anche Rifondaroli e Verdi, sono sempre stati forniti dati quanto mai ondiva chitando per restare in tema di mare. Confido nella sua nota ragionevolezza perché si possano al più presto dissolvere i dubbi arrivando ad una decisione più partecipata e condivisa riguardo alla scelta del sito della Cava a Mare. Lo ha detto il consigliere regionale Giuseppe Tagliente a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall'assessore Febbo al giornale Il Centro. Ma non si era ancora spenta l'eco del dibattito in Consiglio Comunale sulla Cava conclusosi con un documento votato all'unanimità con cui si è chiesto alla Regione e dal provveditorato alle opere marittime di sospendere la procedura autorizzativa per l'attività estrattiva che lo stesso consigliere Tagliente è corso all'Aquila per sottoborre all'attenzione del Presidente Gianni Chiodi i termini della richiesta avanzata dall'essise cittadina. L'incontro è avvenuto presso gli uffici della Giunta regionale e ad esso ha partecipato anche il Direttore Generale, l'ingegnere Tony Sorgi. Il Presidente Chiodi ha voluto precisare che il progetto di realizzazione della cava a mare a largo di Ortona e Vasto è stato ereditato dalla precedente Giunta di Centrosinistra e che anche alla luce di riflessioni ed esigenze maturate nell'ultimo periodo potrebbe essere suscettibile di talune modifiche. Tagliente ha voluto invece richiamare la poca chiarezza dei dati forniti sinora dagli uffici regionali ed ha chiesto che siano messe a disposizione tutte le carte relative al progetto, almeno per quanto riguarda la previsione della cava marina dinanzi alla città di Vasto.